benvenuti al consueto appuntamento con il nostro telegiornale apriamo il nostro notiziario con la visita del ministro dello sport dei giovani andrea body qui a gelo una due giorni dedicata allo sport e alla sostenibilità con la partecipazione per l'appunto del rappresentante del governo che ieri ha preso parte alla cena di gala al palazzetto dello sport rosario livatino struttura che è diventata riferimento nazionale quale best practice coronamento di un percorso virtuoso due giorni di eventi iniziative per accendere i riflettori sulla sostenibilità e sul buon fare c'eravamo anche noi vediamo si è conclusa con il taglio del nastro della nuova foresteria del pala livatino destinato a ospitare gli sportivi provenienti da zone del mondo più svantaggiate come il nord africa e l'est europa la due giorni in città per il ministro dello sport e dei giovani andrea body arrivato a gela per partecipare all'iniziativa organizzata dalla make services per accendere i riflettori sulla sostenibilità e sulle tre declinazioni espresse nell'acronimo esg environmental social and governance secondo le direttive e gli orientamenti dell'agenda ono 2030 il ministro è arrivato in serata in centro storico dove ha voluto incontrare nell'inconsueta avesse da militante lo stato maggiore locale di fratelli d'italia che ha chiesto all'esponente al governo un impegno per la città dalla copertura dello stadio pressi e fino alla pista di atletica poi l'arrivo al pala livatino per l'evento dedicato ai temi della riduzione degli impatti ambientali della decarbonizzazione del sostegno al territorio spesso si parla devo dire in molti convegni e poche volte si pratica la sostenibilità che è un concetto che parte dall'ambiente attraversa il sociale poi si deve tramutare anche in una sostenibilità finanziaria altrimenti non sarebbe sostenibile mi auguro che possa essere presa ad esempio perché dove c'è più bisogno è esattamente in una realtà come il sud e in generale perché noi spesso ci accontentiamo di valutare la media nazionale e noi invece vogliamo concentrarci sulle distanze che ci sono tra le migliori pratiche e quelle un po' meno migliori mi sia consentito questo gioco di parole qui abbiamo un modello che può essere di riferimento anche al nord il ministro ha accolto con grande favore il modello pala livatino di gela qual esempio virtuoso da esportare su tutto il territorio nazionale come history case di successo sono felice di essere anche in rappresentanza del governo per osservare da vicino me l'avevano già presentato ma una cosa è un racconto da lontano e una cosa è viverlo da vicino e anche prendere atto di quanto la comunità possa avere un beneficio da una operazione come questa quindi complimenti al privato ma anche all'amministrazione che ha saputo cogliere l'occasione all'evento erano presenti le principali autorità della società della politica dell'amministrazione dell'imprenditoria unite alla ricerca di modelli virtuosi da proporre alle generazioni future come sottolinea Maurizio Melfa avere il ministro dello sport a gela ci dà una grande carica per continuare in un percorso virtuoso che vede impegnati noi ma anche tantissimi altri stakeholder della città e quindi fiduciosi che anche lo sport soprattutto può essere un volano per poter produrre valori e aspetti culturali che possono cambiare la nostra collettività stamattina invece sempre al pala livatino l'incontro con gli studenti di tutte le scuole della città e l'esibizione sportiva degli atleti di Special Olympics che incarnano pienamente il concetto di diversability e di inclusione come segno di civiltà quest'oggi una dimostrazione di fronte al ministro di sport unificato dove ricordiamolo bene lo sport unificato è nato a gela con la nostra squadra di calcio adesso è la realtà in tutta l'Italia e l'obiettivo principale per noi è quello di creare gela città unificata in cui ogni società sportiva importante che ci sia gela possa includere i nostri atleti in ogni sport calcio basket pallavolo già abbiamo visto i risultati ai play the games e quindi è un inizio importante di fronte anche al ministro che ha battezzato diciamo questo nuovo progetto di Special Olympics e dell'associazione Orizzonte La cronaca avrà l'obbligo di presentazione la settantenne accusato insieme alla voglia di aver favorito la prostituzione affittando un appartamento di loro proprietà a diverse ragazze sudamericane sono stati revocati gli arresti domiciliari il servizio Lascia gli arresti domiciliari il settantenne Francesco Cuvato è accusato insieme alla consorte di aver favorito un giro di prostituzione in un appartamento di loro proprietà in quell'immobile in base a quanto appurato dai carabinieri dell'aliquota di polizia giudiziaria della procura e dai PM si alternavano diverse donne soprattutto sudamericane ricevevano clienti che normalmente le contattavano attraverso annunci pubblicati online l'appartamento è stato posto sotto sequestro prosegue invece l'attività del BNB portato avanti dai coniugi nel quale invece non ci sarebbero stati appuntamenti a sfondo sessuale il GIP ha accolto l'istanza avanzata dalla difesa sostenuta dall'avvocato Giovanna Cassarà l'indagato avrà l'obbligo di presentazione venerdì scorso insieme alla moglie è stato sentito dal GIP e ha fornito una propria versione dei fatti la difesa ha ribadito che non c'è il rischio di reiterazione per PM e carabinieri i coniugi erano consapevoli che nell'appartamento che affittavano si organizzavano incontri sessuali a pagamento l'indagine attualmente è in corso sono stati effettuati accertamenti e l'immobile venne monitorato dagli inquirenti anche attraverso l'installazione di un sistema video ancora la cronaca i poliziotti del commissariato hanno tratto in arresto un 22enne di nazionalità mariochina nella flagranza e reato di rapina aggravata sabato scorso l'equipaggio di una volante è intervenuto in una via del centro storico poiché era stata segnalata una rapina ai danni dei 1,25enne la vittima, gli agenti e la polizia ha riferito che mentre si accingeva a fare il rientro presso la propria abitazione uno straniero armato di coltello l'aveva strattonata e sotto la minaccia dell'arma le ha strappato la borsa per poi dileguarsi gli agenti dopo qualche giro di perlustrazione in zona hanno fermato l'uomo che in un primo momento alla loro vista aveva tentato di fuggire trovandolo poi in possesso di un cellulare trafugato poco prima alla vittima sequestrando anche la borsa e il coltello l'arrestato dopo le formalità di rito su disposizione del PM della procura è stato condotto in carcere a balate a disposizione dell'autorità giudiziaria e adesso torniamo a parlare di una vicenda che vi abbiamo raccontato qualche mese fa quando con le nostre telecamere siamo andati a Vittoria a scoprire quello che era il ghetto dei braccianti agricoli migranti cosiddetti invisibili ieri un incendio divampato nel tardo pomeriggio quando gran parte degli occupanti avevano già fatto il ritorno dai campi e si apprestavano a passare l'ennesima notte nei loro alloggiamenti di fortuna ha rischiato di provocare una strage tra i migranti che da mesi vivono in condizioni estreme nella struttura abbandonata alle spalle della stazione ferroviaria di Vittoria sentiamo cosa è successo in questo servizio poteva finire in strage il rogo che ieri si è sviluppato all'interno dell'hotel degli invisibili di Vittoria la struttura abbandonata alle spalle della stazione ferroviaria all'interno della quale vivono decine di migranti irregolari impiegati nelle serre le fiamme probabilmente causate da un fornello di fortuna hanno aggredito la copertura in eternit del capannone e hanno sprigionato una nube tossica che ha invaso il piano superiore dove al momento si trovavano nove persone solo l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio ieri sulla tardo pomeriggio si è sfiorata la tragedia mentre praticamente come facciamo giornalmente da più di due mesi portavamo le aiuti alimentari a queste persone si è sprigionato un incendio andate qua attorno solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco che veramente ringrazio sono arrivati neanche in 5 minuti abbiamo chiamato le forze dell'ordine perché dovete pensare che una nube tossica si era sprigionata nei vani superiori dove praticamente ci sono nove persone nove persone che stavano dormendo e che non si erano neanche accorte del fumo e non riuscivano neanche più a respirare siamo entrati ho potuto portare al rischio anche della mia incolumità siamo entrati con i vigili del fuoco con i respiratori perché non sapevano da dove entrare è tutto buio all'interno e abbiamo liberato le stanze occupate da questi irregolari avevamo raccontato con le nostre telecamere qualche mese fa le condizioni di degrado in cui vivono parecchi invisibili impiegati nelle serre senza acqua nel luce in mezzo a rifiuti di ogni tipo e proprio in quell'occasione quei pochi volontari che si occupano di loro nell'indifferenza generale avevano denunciato l'elevato rischio di roghi e di inquinamento ambientale la situazione è pericolosa la situazione è grave però noi cittadini non possiamo sostituirci alle istituzioni sono tutti a conoscenza che questo posto è una bomba ecologica che può partire da qualcuno partire l'incendio da un momento all'altro ci sono delle persone io dico solo una cosa siamo stati ieri è stata una fortuna che ci siamo trovati noi se questo incendio non sappiamo le cause da chi sia stato appiccato se questo incendio partiva di notte noi stamattina stavamo a piangere qualcuno i volontari intanto continuano a chiedere l'intervento delle istituzioni che fino ad oggi non si sono mosse in alcun modo per trovare una sistemazione adeguata e sicura a queste persone il solo intervento dei vigili del fuoco ha dato la possibilità a questa gente che nessuno vede che vediamo solo noi stranamente da più di due mesi sono scappati poi dalle parti adiacenti e ripeto si è schiorata la tragedia quindi che chiedo veramente a parte le polemiche che le amministrazioni e chi di dovere intervenga per mettere in sicurezza questo posto e soprattutto prevenire una strage non dobbiamo piangere dopo noi facciamo siamo dei semplici cittadini non possiamo sostituirci le amministrazioni che chi è incaricato che abbia le potenzialità e le capacità di mettere in sicurezza e di dare dignità a queste persone interventa e passiamo a parlare della situazione finanziaria del comune tutti gli atti dei settori comunali sono stati trasmessi ai revisori dei conti spetta adesso al collegio dare parere sui riaccertamenti fondamentali per il rendiconto e le misure correttive richieste dalla Corte dei Conti intanto in municipio inizia la valutazione dei debiti fuori bilancio vediamo tocca ai revisori dei conti fornire l'ultimo lascia passare per arrivare alla delibera sui riaccertamenti che potrebbe sbloccare il cerchio degli atti finanziari tutta la documentazione dei settori è stata trasmessa al collegio che ha richiesto solo un ultimo allegato già inoltrato il sindaco Lucio Greco e gli assessori non possono che sperare nel verdetto favorevole la scorsa settimana è stato stilato un cronoprogramma con tutte le scadenze essenziali ieri si è tenuto un lungo incontro al quale hanno partecipato tutti gli assessori il sindaco Greco ha convocato il segretario generale Carolina Ferro e i dirigenti compreso quello del settore bilancio sembrano possibilisti ma saranno i revisori a pronunciarsi la chiusura dei riaccertamenti fase che si protrae da mesi darebbe la spinta verso il rendiconto 2021 e la definizione del disavanzo effettivo in questo modo verrebbero o meno altre possibili insidie favorendo il traguardo finale delle misure correttive i dirigenti e gli uffici municipali intanto cercano di portarsi avanti su un altro fronte ed analizzare con molta attenzione in ogni settore si sta portando avanti l'attività di ricostruzione dei debiti fuori bilancio così da favorirne la certificazione anche di questo si è discusso nel corso dell'incontro di ieri con tanto di elenchi piuttosto dettagliati dei debiti e un versante continuamente segnalato alla Corte dei Conti l'amministrazione comunale non ha troppe scelte dovrà farsi trovare pronta con gli atti finanziari e con i correttivi entro il 12 giugno il termine ulteriore non l'ha concesso solo la Corte dei Conti eppure l'assise civica attende al varco raggiunta e con un eventuale nuovo sforamento dei tempi la ruota della sfiducia potrebbe riprendere a girare ancora la cronaca stavolta quella giudiziaria dovranno essere i giudici del tribunale locale a occuparsi di adottare eventuali provvedimenti a tutela di tre minori i cui genitori sono in fase di separazione il caso venne segnalato dai servizi sociali e le carte finirono ai magistrati del tribunale minorile di Caltanissetta che hanno convocato i genitori il legale della madre tra invece sulla base della recente riforma ha però contestato la competenza propria dei giudici del tribunale minorile è stato sottolineato che occuparsi degli eventuali provvedimenti a tutela dei figli dovranno essere proprio i giudici del tribunale nel quale pende la procedura di separazione dei genitori cioè quello locale il difetto di competenza è stato accertato così come indicato dal legale che ha citato una forza attrattiva anche per evitare eventuali contrasti tra giudicati sia il procedimento di separazione sia quello attivato dal PM su segnalazione dei servizi sociali a tutte le tre minori verranno tenuti dai magistrati locali lo sportello comunale del SUAP ha rilasciato il provvedimento autorizzativo per il proseguo dei lavori dell'impianto Biojet di Eni è uno degli investimenti principali per il sito locale e prevede la produzione di carburanti sostenibili per l'aviazione vediamo insieme all'investimento Argo Cassiopea per il gas è una delle priorità di Eni nel sito locale sul nuovo impianto Biojet per la produzione di carburanti sostenibili destinati al settore dell'aviazione i manager della multinazionale vanno avanti a febbraio era stato rilasciato da Palazzo di Città il primo via libera per gli interventi edili di realizzazione delle fondazioni adesso è stato pubblicato un ulteriore permesso quello per i lavori di costruzione delle strutture metalliche delle aree pavimentate per il supporto delle tubazioni il sistema è previsto all'isola 8 di raffineria lo sportello comunale su app attraverso i funzionari incaricati ha avvagliato tutti i pareri tecnici rilasciati emettendo il provvedimento unico autorizzativo Eni aveva già trasmesso la documentazione tecnica l'istanza inoltrata a Palazzo di Città risale alla scorsa estate con l'impianto locale l'azienda intende incrementare la produzione di SAF carburanti sostenibili per l'aviazione da immettere sul mercato l'obiettivo già due anni fa veniva indicato in ulteriori 150.000 tonnellate anno di SAF al 100% da materie prime rinnovabili in grado di soddisfare il potenziale obbligo del mercato italiano per il 2025 l'impianto Biojet dovrebbe entrare a regime il prossimo anno è un investimento quasi parallelo a quello di Argo Cassiopea i cui giacimenti di gas dovrebbero a loro volta entrare in produzione il prossimo anno in quest'ultimo caso rimane l'incognita delle prescrizioni ambientali imposte ad Enimed per la cui attuazione non è ancora stato attivato il relativo tavolo di confronto il provvedimento appena rilasciato per il sistema Biojet riporta le firme della dirigente sua Pantonino Collura e del referente Carmelo Di Bartolo e adesso la musica Gela è stata scelta da Carpintero giovane cantautore svizzero come location per il suo primo videoclip musicale la città sarà vista così da tutto il mondo grazie alle tante influencer che scommettono già sul talento del cantante mettendo a disposizione i loro centinaia di migliaia di followers Carpintero è rimasto affascinato dalla nostra città e dall'immensa ospitalità che i cittadini gelesi gli hanno riservato e ha promesso di tornare per girare il video del prossimo singolo vediamo Julian in arte Carpintero è un giovane cantautore svizzero che ha scelto proprio Gela per il suo timido esordio con il video musicale dal titolo Life is too short to give up Carpintero è stato travolto dal calore dei cittadini gelesi che per curiosità si avvicinavano per vedere le riprese non è la mia prima canzone ne ho scritte tante altre ho già un vasto repertorio ma questo è il mio primo vero video e per questo sono entusiasta io amo il mare ma qui in Svizzera non c'è la primavera è veramente fredda e grigia ho contattato a Gela alcuni amici che per me hanno fatto davvero un buon lavoro e soprattutto mi hanno dato tanto affetto inoltre adoro la mentalità italiana e la vostra cultura e sono un grande fan della cucina in più da voi c'è sempre un bel clima e mi piace la mentalità italiana e la cultura sono anche un grande fan della cucina italiana e è anche un'avventura che c'è quasi sempre un bel clima la sua musica fonda le radici nel genere elettronico degli anni Ottanta la melodia vocale si ripete e vuole diventare un mantra trovando sfogo nell'essenzialità di un arrangiamento semplice e diretto che rende l'ascolto fruibile anche a chi questo genere musicale non lo segue una ADM elettronica con influssi di David Bowie e Depeche Mode quando ero un ragazzo mio padre mi ha regalato un Walkman con il quale ascoltavo sempre tanta musica elettronica un genere che amo e sin dall'inizio sono sempre stato incuriosito dalla produzione musicale e adesso che sono un professionista sono felice di poter produrre ogni mio brano dall'inizio alla fine compreso il mixing e il mastering tra affetto e immenso ospitalità il cantante ha visitato luoghi ricchi di storia e paesaggi naturali della nostra città che adesso faranno il giro del mondo attraverso la condivisione del video da parte di Oksana la modella veneziana che lo ha affiancato in questo suo viaggio e delle tante influencer che scommettono già sul suo talento mettendo a disposizione i loro centinaia di followers è una grande persona a cui voglio molto bene ha fatto davvero un ottimo lavoro e poi nel video è stata pazzesca tra le location protagoniste del video le spiagge dorate del nostro litorale il lungomare il castelluccio e la scala dei turchi nel breve soggiorno gelese il cantante svizzero ha gustato i piatti della tradizione nostrana e soggiornato a due passi dal mare in un B&B del nostro lungomare Federico di Svevia ad accompagnare il videomaker William Francis gelese da adozione da diversi anni l'attrice Giovanna Famà che per la prima volta ha vestito i panni della regista il carpintiero ci ha fatto valorizzare i nostri luoghi ma ci ha fatto rinnamorare dei nostri luoghi quando è andato via da Gela ha subito manifestato il desiderio di ritornare con la sua nuova canzone Anima Gemella quindi lo rivedremo questa estate più in forma che mai e il nostro sole lo ha ricaricato e rigenerato e lui è tornato poi in un luogo innevato quindi una differenza abissale e ci fa apprezzare ancora di più quello che noi vediamo qui bene questo era il nostro ultimo servizio siamo in chiusura naturalmente se volete approfondire tutte le nostre notizie le trovate sul sito www.quotidiano.igela.it se invece volete rivedere o condividere tutti i nostri servizi li trovate sulle nostre pagine social facebook instagram e youtube per il momento è tutto vi lascio come di consueto alle previsioni meteo grazie per averci seguito arrivederci grazie a tutti grazie a tutti